L'incontro odierno che istituzionalmente è una novità, nel senso che ci siamo presentati, ci siamo recati in loco ed è stato un gesto molto apprezzato della Capitaneria che ha gradito e ha premiato l'iniziativa ed è stata così l'occasione per discutere carte alla mano di tutta la documentazione trasmessa. Un incontro con i responsabili della Capitaneria di Porto di Gallipoli per controllare ed eventualmente integrare la documentazione che il Comune di Lecce deve presentare riguardo la darsena di San Cataldo prima della restituzione di quest'ultima alla città in seguito ai lavori che l'hanno interessata. Questo l'obiettivo della riunione tra il Vice Sindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, l'Assessore al Ramo, Gian Paolo Scorrano e il personale incaricato della Guardia Costiera che si è svolta nella mattinata di giovedì presso gli uffici del Lungomare Marconi. Abbiamo verificato con il luogo tenente incaricato la presenza di tutti i documenti. In effetti i documenti ci sono ma devono essere per forza attualizzati alla data odierna quindi immediatamente come rientreremo a Lecce insieme al Vice Sindaco provvederemo a inoltrare una PEC con tutti i documenti dal 2022 al 2024 attualizzati alla data odierna. L'obiettivo dell'amministrazione comunale leccese della Sindaca Adriana Polibortone è quello di accelerare i tempi di riconsegna formale dell'area per la quale sarà necessario poi il parere della Commissione incaricata. È una corsa coltre in tempo perché essendo mese di agosto e quindi trovandoci nel ben mezzo delle ferie aguste sarà difficile per noi avere delle risposte celeri ma ci proveremo. La data prevista per l'apertura della Darsena assicurano i due amministratori salentini resta comunque il 27 agosto 2024. Ci auguriamo che possa essere così come annunciato per il 27 anche se la Commissione che dovrà decidere per la riconsegna formale delle aree non è composta solo dalla Capitaneria ma anche dall'Agenzia del Demanio e dal Provvedio di Orato alle opere pubbliche di Bari che qualora non fossero in ferie speriamo di poter sollecitare al pari della Capitaneria di Porto di Gallipoli.